Con questo Fritzbox Powerline 1240 AX riusciremo a portare internet dove i repeater wifi falliscono e portare il cavo è davvero difficoltoso. Ciao amici benvenuti in questo nuovo video dove parleremo di rete wifi e di come poter portare internet in un punto dove è difficoltoso arrivare con un repeater wifi dove anche passare un cavo potrebbe essere davvero un'impresa. Ma prima di andare a vedere più da vicino questo Fritzbox Powerline 1240 AX che era amici solito momento di supporto lasciate un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale attivate la campanella per non perdere nessuna novità, commentate per farmi sapere le vostre opinioni e seguitemi su TikTok dove porto contenuti molto interessanti in meno di un minuto. Se avete bisogno di assistenza informativa gratuita o più semplicemente di un consiglio poi scrivetemi su Instagram o tramite il mio canale di supporto Telegram aiuto veramente tutti i link li trovate sotto in descrizione dove trovate anche il mio nuovissimo canale Whatsapp qui ci sono un sacco di chicche interessanti ma basta chiacchiere vediamo innanzitutto cosa è una Powerline. Beh il concetto è piuttosto semplice ovvero usare la rete elettrica per trasferire i dati qualcuno magari rimarrà sorpreso ma in realtà non è poi così complicato in pratica il cavo elettrico in rame potrà essere usato per trasportare sia la corrente che la rete non è il metodo più efficiente del mondo e se l'impianto elettrico è fatto da mio cugino avremmo dei problemi ma una Powerline può essere davvero una salvezza in molte situazioni in più soprattutto se si ha già prodotti fixbox come il mio caso si configura tutto in un tocco e non sto scherzando. La tecnologia Powerline come dicevamo torna comoda in quelle situazioni in cui abbiamo bisogno di internet lontano dal router e dove il segnale wifi non ci arriva e i classici repeater falliscono a causa di mura spesse o troppa lontananza sì è vero potremmo usare il cavo ma spesso questo comporta non pochi disagi vi immaginate avere un cavo di rete che passa per il corridoio a me questa cosa ricorda un caro collega eppure farlo passare nei tubi dell'impianto elettrico a volte forse non è proprio una passeggiata e non è detto che sia possibile farlo. Insomma avete capito bene cari amici di che situazione stiamo parlando ma vediamo come funziona il Fritzbox Powerline 1240X nella scatola abbiamo due dispositivi solo apparentemente uguali in realtà sono diversi uno è il 1210 l'altro è il 1240 è molto importante distinguerli il modello 1210 serve per prendere la rete dal router e immetterla letteralmente nella rete elettrica il posto più comodo dove attaccarlo è probabilmente alla presa vicino al router evitiamo le multipresa mi raccomando il collegamento con il cavo in questo caso è obbligatorio in quanto il 1210 non è dotato di wifi quindi questo dispositivo farà arrivare internet in tutta la rete elettrica e si fermerà al contatore non vi preoccupate. L'altro dispositivo ovvero il 1240X va collegato nella presa nella quale avete bisogno della rete e internet potrà essere utilizzata anche via cavo ci sono due porte gigabit disponibili o via wifi che è un 6 con tutti i vantaggi che questo comporta con la serie dei prodotti etichettati AX di AVM partiamo dalla parte che tutti reputiamo rognosa ovvero la configurazione che in teoria può non esserlo se si hanno già dispositivi AVM per prima cosa colleghiamo i due apparati a due prese di corrente evitiamo ripeto le multipresa che tutti chiamano ci abbatte non rendiamoci la vita complicata e aspettiamo un paio di minuti nel momento in cui hanno entrambi i dispositivi tutti e tre i led verdi accesi il sistema è pronto immaginate di avere un nuovo cavo di rete dentro il muro che collega appunto i due dispositivi e collegando un cavo a una delle due uscite gigabit della 1240X avremmo già internet pronto all'uso tutto a prova di utonto l'unica cosa un po' ostica ma la si fa per dire è la configurazione del wifi alla presa di uscita quindi con il 1240 se abbiamo in casa un router modem AVM con una versione superiore di Fritz OS 6.90 controllate sempre se è presente un aggiornamento anche per una questione di sicurezza tutto funziona out of the box mi piace tantissimo questo termine infatti in pochissimi istanti schiacciando il pulsante WPS o Connect sul router e poi il pulsante Connect sul 1240X e passati un paio di minuti il sistema Powerline avrà preso dal router la configurazione di rete inclusi nome e password del wifi e potremo quindi iniziare ad utilizzarlo basta finito non c'è nient'altro da fare e cari amici si non sto scherzando sono serio se il vostro router non è un AVM o è un modello un po' vecchiotto allora la cosa non cambia poi di molto quando luci verde sono fisse ci colleghiamo con un browser all'indirizzo del 1240X per sapere l'IP io dal mio smartphone Android uso l'app FING e lo configuriamo come fosse un access point per i dati di accesso andiamo ad utilizzare le etichette che sono all'interno della confezione l'operazione impiega a meno di 10 minuti e se avete difficoltà volete un consiglio poi scrivetemi che io come al solito vi aiuto e lo faccio con piacere una volta configurato il nostro 1240X questo può essere staccato dalla presa e spostato dove ci serve senza bisogno di ripetere la procedura adoro quando un prodotto è così semplice da utilizzare se vi state domandando se della vostra rete ne potrà soffrire tutto il condominio la risposta è no non preoccupatevi in quanto internet si fermerà al contatore quindi non funzionerà per esempio se abbiamo una velletta bifamiliare ci sono due contatori poi cosa molto importante una powerline non è un ripetitore wifi quindi non va messo in un punto dove già arriva appunto la connessione senza fili per rafforzare il segnale con la powerline possiamo fare arrivare il wifi in posti dove non abbiamo proprio segnale o come dicevamo sono ostici altri approcci questo poi cari amici è un modello top poi ci sono al catalogo avm anche dei dispositivi decisamente meno costosi o più piccoli ma dove non è presente neanche lontanamente il wifi 6 o due porte gigabit io ho inserito questo dispositivo nel mio ecosistema devo essere sincero che sono pienamente soddisfatto ho internet cablato dove voglio e avere due porte gigabit è davvero tanta roba e non perdo nemmeno quella del router in quanto sul modello 1210 ce ne sono due ma qualcosina che non mi piace c'è come molti dispositivi in arrivo dalla Germania il connettore alla rete elettrica è rigorosamente uno asciuco non l'ha di tragico ma se si ha la classica presa 10-16A italiana si deve utilizzare un attatore da pochi euro vero ma questo farà sporgere l'apparato dal muro di circa 5 cm vi consiglio quindi di evitare di collocarlo in zone di frequente passaggio più semplicemente di cambiare la presa a muro con un asciuco a tal proposito vi consiglio i prodotti for box andateli a vedere ho fatto un video dedicato per quanto riguarda il costo è un prodotto top e quando si parla di rete deve essere così altrimenti andremo sempre incontro a problematiche come disconnessioni o pink altissimi oltre che caricamenti lenti in soldoni cari amici un dispositivo che vi consiglio la mia risposta è sì i prodotti AVM sono di qualità io mi ci trovo benissimo diffidati dai prodotti economici in questo campo per esperienza vi dico che creano sempre problemi poi questo powerline è utile in moltissime situazioni ed è di una semplicità estrema per quanto riguarda la configurazione anzi praticamente non serve farlo nel mio caso mi è bastato semplicemente premere due tasti e attendere due minuti cari amici vi ricordo di andare a vedere l'altro video che ho fatto sui prodotti AVM dove vi do un'idea di come andare a realizzare una rete per portare il wifi ovunque prima di acquistarlo però accertatevi che il vostro impianto elettrico non sia fatto da ciccio pasticcio e soprattutto ricordatevi che funzionerà solo fino al contatore di casa non oltre altro aspetto a considerare è che questo modello di Fritzbox supporta il wifi 6 ma solo nello spettro a 2.4 gigahertz con velocità fino a 600 megabit quindi in debanda 5 gigahertz con i powerline i dati vengono distribuiti invece tramite la rete elettrica a velocità fino a 1200 megabit non aspettatevi velocità in download upload pazzesche in quanto i powerline proprio come tecnologia si usano dove gli altri metodi falliscono o sono difficoltosi da installare ho visto poi che esiste anche il modello 1260 che aggiunge il supporto alla wifi a 5 gigahertz e ha anche una comodissima presa elettrica passante attualmente il prezzo di questo dispositivo è di 169 euro su Amazon trova qualche euro in meno per qualsiasi dubbio al solito commentate beh cari amici il mio video termina qui mi raccomando condividetelo noi ci vediamo prestissimo con tante altre novità attivate la campanella per non perdervele e scrivetemi se volete vedere un prodotto in particolare qui sul canale un saluto dal masso di YouTube che va super spedito anche su TikTok ciao bello bello Grazie a tutti.